Il 2 marzo ricomincia finalmente la stagione artistica del Conservatorio di Palermo al Teatro Massimo con un programma diretto dal maestro Antonino Fogliani, con Marianna Pizzolato, Luca Dordolo, Ugo Guagliardo e seguiremo il Pulcinella di Stravinsky nella versione integrale e la Sinfonia Júpiter di Mozart. Quindi siamo molto contenti di ricominciare con la musica dal vivo nel Tempio della musica palermitana, nel Teatro Massimo dove negli ultimi dieci anni abbiamo sempre inaugurato la stagione. La stagione proseguirà con una serie di appuntamenti che seguiranno l'inaugurazione del 2 marzo fino a dicembre. Sarà divisa in varie sezioni quest'anno, abbiamo pensato che per andare incontro anche agli interessi, ai gusti del pubblico abbiamo diviso il programma in varie sezioni tematiche, quindi la musica da camera, la musica jazz, la musica antica, la musica contemporanea, la musica sinfonica e tanto altro. I luoghi sono quelli di cui ultimamente abbiamo usufruito, l'altro del Conservatorio d'estate, la Sala Ferrara, poi il Teatro Massimo, l'Oratorio di Santa Cita e tutta una serie di spazi del Centro Storico che via via identificheremo anche oltre a quello che stiamo presentando adesso nel corso dell'anno. Insieme alla stagione dei docenti dove suonano tantissimi studenti vi sarà anche una stagione dedicata esclusivamente agli studenti come di consueto. E' anche una rassegna dedicata alla musica per pianoforte con dei recital e piccoli gruppi da camera che culminerà con la petite messe solennelle di Rossini dove i due pianoforti sono protagonisti indiscussi. Le collaborazioni istituzionali sono moltissime, con la Fondazione Teatro Massimo, con l'Accademia di Belle Arti e con l'Università di Palermo. Insomma, il Conservatorio riprende a pieno ritmo la sua attività pubblica e speriamo di non doverla interrompere più.